Bellato 277 è stato consegnato agli archivi con un altro clamoroso cambio di titolo. Sigla e ne parliamo! E' appena terminato Bellato 277 un evento importantissimo, un evento veramente fantastico e che portava due match titolati. Il main event valevole per il titolo Pesi Piuma fra AJ McKee e Patricio Pitbull il rematch e il co-main event il match valevole per la vittoria del Grand Prix nei Pesi Massimi Leggeri ma anche per il titolo Massimi Leggeri fra il campione Vadim Nenkov e Corey Anderson. Come in event che ha avuto un finale veramente amaro soprattutto per Corey Anderson. Dopo tre round o per meglio dire al terzo round il match è stato stoppato per una testata involontaria di Corey Anderson ai danni di Vadim Nenkov. Una testata che ha aperto un taglio veramente importante e che quindi ha costretto subito allo stop del match. Un stop giusto ovviamente per le condizioni mediche appunto di Vadim Nenkov. Corey Anderson che però stava controllando il match e fra l'altro in maniera sempre più agevole dopo un primo round equilibrato e che a mio avviso era andato a Nenkov. Corey Anderson aveva vinto il secondo e stava vincendo il terzo, stava iniziando ad imporre sempre di più il suo game plan. E appunto quindi ovviamente finale molto amaro per lui che quando è stato fermato il match subito pensava addirittura in realtà di aver vinto che fosse uno stop per K.O. Tecnico, per Dr. Stoppage, quindi stop medico. Di fatto è stato uno stop medico ma è risultato in no contest perché ovviamente è arrivato tramite una testata quindi un colpo involontario. Tra l'altro c'era la possibilità che si andasse alla lettura dei cartellini e si assegnasse la vittoria e quindi la cintura anche leggendo i cartellini dei giudici ma è un'opzione che poteva entrare in gioco soltanto a partire dal quarto round. Quindi Corey Anderson appunto beffato anche da questo punto di vista. Ci sarà sicuramente il rematch. Anche il milione della vittoria del Grand Prix per i pesi massimi leggeri non è stato assegnato. Tutto rimandato, ci sarà un rematch e appunto non vediamo l'ora di sapere quando e soprattutto che si svolga questo rematch. Parlando di rematch, nel main event c'era quello tra AJ McKee e Patricio Pitbull. Sappiamo che appunto nel primo incontro fra i due AJ McKee aveva vinto anche in questo caso il Grand Prix per i pesi piuma e la cintura pesi piuma sottomettendo Patricio Pitbull con una ghigliottina al primo round. In questo caso però è stato un match completamente diverso. È stato un match molto combattuto, un match in cui Pitbull è stato molto paziente, è stato molto intelligente con un game plan ben misurato. È stato uno di quei match che sinceramente poteva andare ad entrambi. Io personalmente l'avevo assegnato a Pitbull. Secondo me aveva vinto Pitbull tre round a due, quindi 48-47. Che è stato anche poi il verdetto di due giudici su tre, uno addirittura ha assegnato 49-46 per Pitbull. Io sono d'accordo appunto con la vittoria. C'è un nuovo campione pesi piuma che ritorna campione pesi piuma Patricio Pitbull per la terza volta in carriera. Si dimostra sempre di più una leggenda dell'MMA e in particolare di Bellator. E' il game che è rimasto sconvolto dalla lettura del verdetto. I momenti migliori del match li ha avuti comunque Pitbull. Vedo più giusto il cartellino 48-47 come vi dicevo piuttosto che non il 49-46 del terzo giudice. Ma tant'è che appunto il risultato, il verdetto non cambia. Patricio Pitbull torna campione pesi piuma. Adesso molto probabilmente ci avviamo verso una trilogia fra i due che si prospetta come uno dei match più importanti nella storia di Bellator. E vedremo appunto chi riuscirà a portarsi a casa la bella. Ricordiamo nel terzo match più importante della serata che precedeva i due match titolati. Aaron Pico con un'altra vittoria fantastica, una performance impressionante, dominante all'inizio e alla fine. Trova la vittoria per KO tecnico al terzo round, sesta vittoria consecutiva. Adesso ovviamente di nuovo il momento per lanciarlo verso un tipo di competizione, un tipo di avversari più elevato per vedere dove può arrivare veramente. E le potenzialità anche con i miglioramenti fatti dopo quelle sconfitte dicono che davvero ha le possibilità di arrivare piuttosto lontano. Questo appunto è un po' il riassunto dei match principali della card. Iscrivetevi al canale, lasciate un like al video, fateci sapere che cosa venne parso del co-main event e del main event in particolare. Soprattutto del main event, anche della performance di Aaron Pico se c'è qualcos'altro che volete sottolineare. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!